Buongiorno a tutti, sono Amedeo Tavini, capitano del Fly Cycling Team CD, siamo qua alla partenza del Giro E, per Fly questo giro è molto importante, per lanciare un messaggio importante, stiamo cercando di dimostrare che con il diabete e con tante altre patologie, magari anche più lievi, il ciclismo può essere una cura, può essere propedeutico per migliorare la condizione di vita e il livello di salute in generale, lo sport fa bene, lo sport con la bicicletta elettrica fa ancora meglio perché ti permette di arrivare magari in posti dove diversamente non saresti arrivato, quindi con il centro diagnostico stiamo cercando di dimostrare questo, credo che lo stiamo facendo bene, stiamo offrendo la possibilità ai pazienti, ai medici di partecipare a questo meraviglioso evento e a queste meravigliose tappe, questo stiamo cercando di fare, sta andando molto bene, lo stiamo facendo con piacere, ringraziamo tutti quanti per seguirci, continuate a seguirci sui social, vi aspetto numerosi sulle nostre pagine e supportateci! Grazie a tutti!